Nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, tra la Stazione Termini e il Colosseo, la Galleria d'Arte Il Bracolo propone una vasta selezione di artisti contemporanei. Alle mostre di pittura, scultura, fotografia e videoart si alternano incontri culturali ed eventi musicali con la collaborazione artistica di Serina Aletta. Via dei Quattro Cantoni 9, telefono 06 48 91 3126.